si è arrivato da due partite quella con moda non è andata bene oggi di sei rifatto milano si è rifatta alla grande mvp del match una vittoria importantissima per questa squadra grazie mille si prende un po di tempo per aggiustare tutte le cose con palicciatore con anche battuta un nuovo palazzetto è andata bene oggi e sono molto felice per la squadra per aiutare qua tutti carissimo e mi piace adesso questa vittoria rilancia anche un po milano mercoledì si torna subito in campo una squadra che ha bisogno di trovare continuità nel gioco ma anche nei punti esatto questo è il nostro target anche per il prossimo match giochiamo punto a punto e prendiamo un po di carisma e giochiamo qui e ci vediamo una battuta sul tuo arrivo a milano sei arrivato ti sei allenato con la squadra poi sei stato del serato insomma sei contento di questa nuova avventura a tantissimo è una città è grandissimo mi piace la squadra la società l'allenatore mi piace tutto è la pacchetto insieme è molto molto sono molto contento